Ciao a tutti siamo, è quasi luna, oggi stavo a casa perché ho trattato male, non so che ho ancora un po' di momenti di testa, ma sta passando, e niente, quindi stavo studiando prima però, poi mi sono fermato un attimo, ho guardato il quarto d'ora, ho guardato i sortiti, c'è la Roma, la Roma, la Roma, però sono andati malissimo, diciamo, sono andati malissimo sia per noi che per la Juve, invece è andato benissimo per il City, per il Bayern, o almeno, cioè la migliorezza del Bayern, qua sicuramente il Bayern passerà almeno che, comunque il Sevilla potrebbe fare il colpaccio che ha vinto contro il Manchester United del Sevilla, quindi, comunque, cioè, c'è la fine del Bayern, ma l'ho sculato sempre perché è un beccato di Becittes che vogliono tutti, perché quindi tutti, quelli che potevano prenderla, mi aiutavano, l'hanno beccata loro, scusate che adesso volevano tutti ai quarti, l'hanno beccata loro, cioè, ma che, che, scusate, eh, guardate, 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 allora, allora, io vi dico, io vi dico che, eh, io vi dico loro che passerà al Bayern Monaco, anche, anche se è una partita che, io dico passerà al Bayern Monaco, però potrebbe fare il colpaccio di Sevilla, poi passa, eh, il City, il City, anche se bisogna vedere perché, comunque, comunque, il Liverpool potrebbe, potrebbe fare qualcosa di importante, e, eh, allora, passa, detto, City, eh, Bayern Monaco, Barcellona, anche se la Roma, sa, deve andare a giocare, però, dobbiamo proprio sperare che lì, visto che noi andiamo, la prima, cioè, la prima partita la facciamo lì, lì, dobbiamo sperare che, appunto, lì facciamo, tipo, 2-1, quando abbiamo fatto con, cioè, magari perdiamo 2-1, quando abbiamo fatto con il, con lo Shakhtar e poi in casa riusciamo a fare un gol, così, sarebbe meglio, perché, o magari, o magari, non c'è 2-1, e, quindi, poi, 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 tra Juve e Real Madrid, ma, dico che passerà al Madrid, però la Juve se la giocherà, sicuro, la Juve se la giocherà, perché sarà più, sarà più, più difficile, perché la Juve se è, leggermente rinforzata, con, stanno, leggermente più forte, perché la Juve se sta andando più, si andando meno bene in campionato, e, quindi, 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 poi, dico che, comunque, la Juve ha buona possibilità di passare, però, più probabilmente passerà, a, diciamo, a, diciamo, a, no, a, no, invece, a dire, proprio, seriamente, poi, ehm, 60, la Madrid, 40, Juve, poi, 70, Barcellona, 30, Roma, 70, Bayern, Monaco, 30, Sibiglia, 55, ehm, Magister City, 45 Liverpool, ecco, comunque, sono tutte partite importanti, tutte partite belle da vedere, ora saranno ad aprile, quindi, poi ad aprile ce ne andremo a vedere, capiremo un po' come sarà il tutto, e niente, dobbiamo, dobbiamo, cioè, dobbiamo ottenere la difesa, la difesa, la difesa di Juve, di giocare bene, non si deve fare, non si deve fare, prendere dal panico, da niente, da problemi, da cose, dobbiamo giocare, di, sì, no, spero vi sia giusto, se ci sono le mani, è bello.